Buongiorno a tutti. Siamo a una puntata di Sportools. Sportools è il format settimanale che IC Partners propone di informative sui mercati. IC Partners è la più grande piattaforma italiana di supporto agli investimenti diretti esteri, è presente con 27 uffici su 17 mercati e assieme ai partner è presente su 44 paesi online e 190 paesi online. Questo format vuole dare informative sui mercati, dura 30 minuti, quindi un format veloce. Oggi ospite la collega Daliborka Martic dell'ufficio di Banialuca che è in Repubblica Sebska che è parte della Federazione Bosniaca. Oggi parleremo quindi di questo paese interessante, particolare per molti versi di cui poi approfondiremo. Il format, come dicevo, dura 30 minuti, faremo delle domande alla Daliborka, alla fine c'è spazio per delle domande da parte di chi ci segue, che me ne arriva nella parte io proprio a farlo da Daliborka. Bene, ringrazio e direi di partire, quindi intanto buongiorno Daliborka e benvenuta alla edizione di oggi di Export Talks. Buongiorno, grazie per l'opportunità di partecipare in questo format di Export Talks oggi dedicato al nostro paese. Subito all'inizio vorrei fare una piccola permessa. Bosnia e Herzegovina è uno stato piccolo, ex-sigoslavo, fortemente colpito dalla guerra che ha durato da 1992 fino a 1995. Nel 1995, alla fine dell'anno, è stato firmato l'accordo di pace in città americana a Dayton, dopodiché lo Stato ha ricevuto la sua indipendenza. Dicono che siamo unici al mondo organizzati in questo modo, però ecco, siamo organizzati in due entità autonome, quasi come le vostre regioni autonome italiane e abbiamo una città, un distretto, il distretto di Berczko che gode un'autonomia particolare. Repubblica Serbska è un'entità autonoma con la popolazione di maggioranza ortodossa, la capitale è Bagnaluca, l'altra entità è la federazione della Bosnia e Herzegovina, dove la capitale è Sarajevo, la maggioranza di cittadini è muslimana e questa entità è divisa in dieci cantoni. Abbiamo questo distretto di Berczko. Tutte e due entità... Borca, ti interrompo un attimo. Diciamo che questo è importante per chi ci segue capire bene questo, diciamo, operativamente e giuridicamente come è composta la federazione della Bosnia e Herzegovina, perché ci sono tutta una serie di aspetti poi per chi va a investire e operare sul territorio tecnici. Quindi la premessa è corretta, ti ringrazio e quindi ecco, ti direi di specificare bene anche il tema dei tre presidenti, il funzionamento macro, perché è utile poi per chi ci segue capire bene, diciamo, poi operativamente come si lavora per chi vuole investire in Bosnia. Ecco, allora queste due entità, come dicevo, sono due entità autonome, vuol dire che hanno il governo, hanno il Parlamento, però sono nello stesso tempo dovute a costituire dalle istituzioni comuni bosniache. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo degli organi che si costituiscono a livello statale e che vale per l'intera Bosnia, per tutte e due entità. Per esempio le imposte indirette, dogane, trasporti, commercio con l'estero, sono tutta la parte che vale per tutte e due entità. Mentre a livello regionale, vuol dire, a livello delle entità abbiamo per esempio imposte dirette, polizia, tribunali, eccetera. E siamo indipendenti in questo senso. Repubblica Srpska è così proprio al suo governo e Parlamento, non ci sono altre divisioni, però in federazione loro hanno dieci cantoni. Vuol dire che sono divisi in questi dieci cantoni e ci sono moltissimi, diciamo, moltissimi organi anche a livello locale. Vuol dire che ci sono degli organi a livello locale, regionale e poi statale. È un po' complesso, per questo è molto importante per un investitore di prendere decisioni, informazioni più precise dove, per esempio, vorrebbe investire, cosa vorrebbe fare e quale parte della Bosnia-Herzegovina. Per questo io sempre, quando c'è un investitore interessato per la Bosnia, la mia prima domanda è dove vorrebbe investire, in quale parte della Bosnia, perché questo conta molto, ecco. Sì, siamo piccoli, però ecco, siamo un po' complessi. Tutta la Bosnia ha solamente 3 milioni e 800 mila abitanti. Siamo distetti su una superficie di 50 mila chilometri quadri. Ecco, siamo proprio confinanti con la Croazia, Serbia, Montenegro e Penisola Balcanica. Un paese sicuramente economicamente povero, purtroppo, forse, certe volte la storia non ci permetteva di andare avanti in quanto si potrebbe fare. Qui, cosa vuol dire? Cioè, siamo poveri, vuol dire che il nostro standard di vita è molto basso, qui un salario medio è circa 480 euro, tipo un litro di benzina costa 0,90 euro. E già, allora, si capisce qual è lo standard di vita in Bosnia. Devo menzionare, ovviamente, anche quest'anno. Quest'anno ancora molto difficile, proprio per questa pandemia che non ha, che sicuramente è venuta anche in Bosnia, dato che molte società bosnie che collaborano con soggetti stranieri, con l'Unione Europea, per cui hanno sentito moltissimo questa, questa pandemia. 2020. Porca, ti chiedo, appunto, questo tema della pandemia, della pandemia è un tema sensibile, difatti, molte aziende, col problema proprio che la Bosnia, poi, nell'elenco dei paesi bannati, così, per così dire, quindi diciamo che non viene permesso l'accesso, salvo, diciamo, il tema, alcuni passaggi via Croazia, Contest e quant'altro. Ma, e quindi questo è sicuramente uno dei problemi attuali per tanti paesi, anche per la Serbia, ma anche per paesi europei, come la Romania, la Bulgaria, che soffrono un po' di situazioni, diciamo, di vincoli un po' particolari. Ma, normalmente, diciamo, le aziende che vengono in Bosnia, che tipo di problemi incontrano? Appunto, partendo in primis da quanto tu dicevi prima, ovvero della localizzazione che va a creare già dal subito una prima problematica per l'applicazione delle normative cari, problematiche o giuridiche rispetto, diciamo, all'operatività. Quindi, ecco, questo passaggio qua mi interessa, anche perché, appunto, so che, diciamo, il nostro ufficio è lì dal 2005, quindi ormai sono 15 anni, quindi abbiamo seguito diversi investimenti, investitori e abbiamo, credo, maturato e tu in primis maturato una buona esperienza sul, appunto, soprattutto sulle aziende italiane, appunto, che sono venute a investire, dove abbiamo visto casi che hanno funzionato molto bene, ma molte volte funzionare meno proprio perché c'è stato un approccio, come dire, un po' superficiale al paese, inizia a capire alcune dinamiche. Quindi ti chiederei, diciamo, di approfondire un po' questo aspetto perché credo sia utile e importante per tutti. Sì, grazie per domanda. Io sono bosniaca di origine e certe cose prendo per contatto, però non è così. Allora, Bosnia e Herzegovina, sì, veramente è complessa. È sempre, dicevo, agli investitori di prendere delle informazioni più precise sugli investimenti e sul territorio, dove si vorrebbe investire. Perché noi siamo in Repubblica Serbsca e siamo quasi come in un stato, ecco, un stato che è forse un po' diverso dalla federazione della Bosnia e Herzegovina. Faccio solamente un esempio. Nostra contabile è registrata in Repubblica Serbsca e, per esempio, lei non può seguire, non può essere contabile per una società in federazione. Siamo completamente separati, cioè, in questo senso. Però, per esempio, per quanto riguarda le imposte indirette che sono a livello statale, può essere contabile per tutte e due regioni. Siamo un po' particolari. Poi, qui, per esempio, subito all'inizio, quando si costituisce la società, bisogna scegliere subito un ufficio contabile e questo ufficio contabile va registrato in agenzia entrate locale, dove c'è la società. Vuol dire, se uno ha la società a Bagnaluca, deve registrare un ufficio contabile a Bagnaluca e questo ufficio contabile è un collegamento tra gli organi fiscali, tutti gli organi fiscali e società. Noi, per esempio, essendo a Bagnaluca, non possiamo seguire una società costituita a Bihac, oppure una società che è costituita a Sarajevo, perché dobbiamo avere, diciamo, dei colleghi che devono essere registrati secondo le loro regole per poter seguire queste società. È un po' troppo particolare. Bisogna sempre guardare anche delle regole a livello locale, se ci sono, a livello cantonale, perché, per esempio, se ci sono anche alcuni aiuti dello Stato, bisogna vedere quali livelli danno questi contributi e quale società possono accedere su questi aiuti, su questi contributi. Per cui è molto importante da capire da dove si va in Bosnia, perché non vale per l'intero territorio bosniaco. Grazie. Senti, hai parlato di contributi e assistenza. Durante questa situazione di pandemia, qual è stato il supporto dello Stato alle aziende e quello che è normalmente, diciamo, i supporti che le aziende possono trovare, appunto, all'interno della Bosnia, in entrambi, diciamo, le due entità. Ecco, per quanto riguarda la pandemia di Covid, devo dire che nelle ultime quattro settimane abbiamo una situazione sotto controllo, siamo sotto un monitoraggio quotidiano dei nostri organi competenti. Abbiamo circa 6 mila casi attivi adesso e ovviamente siamo chiamati di rispettare delle loro misure, vuol dire utilizzare le mascherine, mantenere distanza sociale. Dal primo settembre abbiamo anche aperto le scuole, per cui diciamo che la situazione veramente è sotto controllo. Però durante aprile e maggio, quando, diciamo, da noi è scoppiata alla pandemia, non era così. Siamo stati tutti chiusi subito, perché nessuno sapeva come muoversi nei prossimi mesi. Dopo, pian piano, ci siamo mossi, le società si sono aperte, c'era un po' più chiaro in quale direzione andrà questa pandemia. Purtroppo tutti i nostri soggetti, il nostro paese non è un mercato di consumatore, è proprio un paese dove si produce e siamo, diciamo, dei fornitori e sub fornitori delle società estere, per cui moltissimi soggetti guardavano come si, diciamo, come si muoveva il mondo in Unione Europea e i loro partner, da un lato e dall'altro. Quali saranno questi sostegni del governo? Il governo prometteva, ovviamente, di dare dei contributi, dei aiuti, però essendo uno Stato povero non era un granché, però ecco, comunque erano a disposizione. Hanno alla fine deciso di dare ai tutti i soggetti proprio che erano chiusi dei contributi che erano dei salari lorti minimi a ciascun dipendente, mentre tutte le società che avevano delle difficoltà, cioè che hanno avuto dei calli infatturato, gli hanno dato alcuni anche contributi, non era un granché, però ecco, era comunque un aiuto, un contributo. Nella Federazione della Bosnia proprio è anche uscita una legge per combattere la pandemia e anche loro hanno dato dei contributi in valore di tasse e contributi previdenziali ai dipendenti delle società che erano chiuse o che avevano dei cali infatturato. Capito. Senti, per quanto riguarda le aziende italiane, no? In Bosnia c'è una presenza legata con le aziende importanti, prevalentemente come giustamente tu ricordavi, non essendo appunto la Bosnia un mercato di consumo ma di produzione, dato i costi dei fattori produttivi, sia materia prima in caso del legno o appunto della mano d'opera. Come fondamentalmente queste aziende sono riuscite a gestire questa fase? Ma soprattutto la domanda è come vedi il futuro delle realtà che vengono a investire in Bosnia nella loro quotidianità e come gestire questo tipo di approccio sul mercato della Bosnia? Subito all'inizio devo dire che molti hanno paura un po' della Bosnia, in particolare quelli che non hanno tutte le informazioni, dato che è complesso così. Poi ovviamente dalla nostra storia della guerra, anche dei tantissimi problemi politici, però qui veramente uno, un investitore che viene e che investe sicuramente troverà dei vantaggi. Devo dire che già sappiamo, abbiamo un'eccellente posizione geografica, siamo in Europa però siamo fuori dell'Unione Europea, abbiamo un regime fiscale molto favorevole, qui l'imposta sull'utile è solamente 10%, per esempio l'IVA è 17%, se guardiamo contributi e tasse sui salari siamo circa 33% sul calcolo lordo, per cui sicuramente questo è molto favorevole. Poi la costituzione societaria è molto simile a quella italiana, società, una SRL in Bosnia quasi corrisponde a quella italiana, per cui ci sono diciamo anche molte cose che sono simili, che quando avviene un investitore italiano non troverà delle cose che già capisce, che già sa come funzionano, ovviamente con le particolarità del paese. Devo menzionare anche per quelli che non sanno che per esempio in Bosnia purtroppo firma digitale ancora non funziona, per cui firma e timbro sono molto importanti, la figura del direttore, del socio sono importanti, per cui uno che viene deve investire, deve essere anche disponibile e di venire forse più volte in Bosnia. Ecco, questo forse è anche svantaggio, però anche vantaggio, perché queste persone vengono in Bosnia più volte, raccolgono più informazioni e trovano i loro vantaggi. Per cui sicuramente tutto questo conta per loro quando vogliono prendere delle informazioni sui loro investimenti. Tu, nella tua esperienza, senza ridire cose che abbiamo già detto, ma cosa ti sentiresti di dire a un imprenditore italiano che viene in Bosnia e appunto vuole fare un investimento? Abbiamo avuto negli anni, abbiamo visto insomma diverse aziende appunto attratte da un costo della mano d'opera, ma anche, devo dire, alcune hanno deciso anche di investire ulteriormente dopo i primi investimenti perché hanno trovato anche un ambiente, chiamano così, una risposta dal mondo politico sicuramente diciamo efficace ed efficiente. Qual è secondo te diciamo un po' l'approccio che consiglieresti in questo momento? Ecco, in questa nostra esperienza lunga, il mio primo consiglio sicuramente, come vorrei dare, è di avere fiducia in personale locale, perché di solito un investitore quando viene in Bosnia vorrebbe essere socio, vorrebbe essere direttore, vorrebbe gestire società in Italia, che questo prima o poi arriverà al muro. Però se si dà la fiducia alle persone locali, se si inseriscono le persone locali in management, questo sicuramente porterà dei risultati. Questo è sicuramente il mio primo consiglio che vorrei fare, di dire all'investitore di non tenersi chiuso e di non considerare questo come una società italiana. È una società bosniaca con capitale italiano. Sicuramente tutto il know-how delle società italiane che hanno è benvenuto, però in Bosnia c'è sicuramente la manodopera qualificata che vorrebbe imparare sicuramente le nuove cose. Siamo fiduciosi, però vogliamo anche noi avere la fiducia dell'investitore. Questo è sicuramente il primo consiglio che vorrei fare, a parte tutto il resto che già abbiamo detto durante questo intervento. Senti, hai toccato un altro tema che vorrei così completare anche come informativa, il tema della manodopera. Sappiamo che la manodopera in Bosnia è normalmente una buona manodopera, tant'è che c'è un fenomeno di assorbimento sia lato Italia, ad esempio Fincantieri, soprattutto in alcuni settori in meccanica, ma soprattutto la Germania ha fatto, diciamo, assorbito o comunque ha fatto da grande attrattore di manodopera della Bosnia e in qualche caso questo ha creato anche problemi in alcune aziende. Come vedi questo tipo di situazione anche nella dinamica sul mercato? È vero, è vero che purtroppo essendo uno Stato povero, dove l'economia non è tanto sviluppata, moltissimi nostri cittadini hanno dovuto andare fuori dal nostro paese, dato che qui hanno potuto trovare il lavoro. Anche durante la guerra molti sono andati, quasi ogni famiglia ha una persona che lavora all'estero, per cui quando qui situazione non era molto buona da un punto di vista dell'economia, questi familiari hanno iniziato di aiutare, hanno cercato di trovare lavoro per i suoi familiari e così pian piano noi stavamo perdendo manodopera. In particolare questo si è rafforzato negli ultimi anni quando Germania ha aperto il loro mercato, ancora peggiorato, abbiamo perso moltissima manodopera. Però già nel 2019 la situazione si è tranquillizzata abbastanza e non abbiamo perdite in questo senso come tipo nel 2018. Poi anche qui i nostri datori di lavoro hanno avuto un po' di tempo di pensare di cosa fare per mantenere questa manodopera, perché è cosa dare. Certo il salario è importantissimo, però sicuramente a parte il salario ci sono altri incentivi che loro hanno dato ai loro dipendenti per mantenerli. noi abbiamo diversi casi, diversi nostri clienti che hanno avuto tantissimi problemi di mantenere manodopera. Poi alla fine, in particolare già nel 2019, questo si è tranquillizzato e non hanno questi tanti problemi di trovare manodopera oppure che manodopera va via senza preavisi o una cosa signora. Grazie. Senti, siccome sono arrivati a qualche domanda, io ti farei anche questa così diciamo come sviluppo. Allora l'amico Lucio qua ci chiede quali sono le priorità attuali nel settore energetico in Bosnia, che sappiamo avere molto, come dire, capacità idrografica, quindi fiumi e quant'altro, ma dice quali sono le alternative alle centrali a carbone? Sicuramente il settore energetico in Bosnia è molto sviluppato, in particolare le fiumi, dato che abbiamo tantissimi fiumi e il nostro Stato offre diverse concessioni per sviluppare questo settore e per produrre energia elettrica utilizzando questa risorsa. Per quanto riguarda carbone purtroppo no, non ci sono nelle concessioni oppure non ci sono possibilità. Ci sono, sicuramente questo signore già sa che in Bosnia ci sono grosse miniere di carbone con la quale si utilizza, che utilizzano carbone per produrre energia, però purtroppo non ci sono novità in questo senso. Poi mi chiede sullo Stato di adesione all'Unione Europea, che è un percorso richiesto nel 2016 e a che punto è oggi la Bosnia su questo percorso? Purtroppo neanche in questo percorso non ci sono novità, siamo bloccati, dato che avendo queste due entità autonome molte volte due governi non riescono di trovare, diciamo, la parola comune, non riescono di trovare degli accordi per poter, diciamo, adempire dei requisiti dell'Unione Europea. E ancora siamo bloccati perché dobbiamo fare moltissime riforme, in particolare la riforma che riguarda la giustizia, che non è ancora stata fatta e per la quale purtroppo questa via è ancora abbastanza lunga. Ok, poi altra domanda è quella della concorrenza, concorrenza delle imprese cinesi in Locos nel settore infrastrutture. Sappiamo che un po' in tutta l'area dei Balcani la presenza di imprese grossi costruttori cinesi è importante e sappiamo che ci sono dei progetti di costruzione, per esempio le ferrovie dalla Belgrado a Budapest, i collegamenti giù sul Monte Negro, collegamenti verso la Grecia, proprio in questo asse, diciamo, Pireo-Centro-Europa via ferrata o via stradale. In Bosnia qual è la situazione? Qual è la presenza cinese? Grazie per la domanda. Allora, Bosnia è in forte ricostruzione infrastrutturale, si stanno costruendo moltissime autostrade, quelle che fanno parte del corridoio 5C, ci sono anche delle società cinesi che costruiscono, che fanno delle costruzioni, però non abbiamo una grossa partecipazione delle società cinesi. È certo che loro erano interessati a costruire alcune parti, per esempio alcune parti dell'autostrada, erano interessate, però mi pare che non c'erano degli accordi, non hanno preso dei lavori in quanto si parlava, però senz'altro siamo in una forte ricostruzione, ci sono tantissime strade, tantissimi progetti infrastrutturali che si stanno costruendo, per cui sicuramente questo potrebbe essere interessante anche da parte di un investitore. Abbiamo anche delle società italiane che fanno dei lavori qui, alcuni ponti, alcune società che fanno delle sorveglianze sui lavori, fanno dei servizi tecnici proprio su questi progetti infrastrutturali in Bosnia. Grazie. Senti, Andri ci chiede quali sono i settori maggiori interessi per investire oggi nel paese e anche il perché, diciamo, di questo. Settori più interessanti sono proprio quelli che sono legati alle risorse che abbiamo, direi al primo posto sicuramente il legno. Abbiamo tantissime società che si occupano proprio di lavorazione di legno. Poi il settore energetico, grazie alle fiumi e alle concessioni del nostro Stato che offre ai investitori per la produzione dell'energia elettrica. Sicuramente il settore calzaturiero e testile è molto interessante. Abbiamo tantissime società italiane che producono qui le scarpe. Settore metallo-meccanico anche, devo dire. Questi, diciamo, sono dei settori più importanti per il nostro paese. Chiaro, grazie. Senti, mi chiede Gianni, come è tassata la distribuzione dei dividendi dalla Bosnia? Per quanto riguarda dividendi, ovviamente dipende se abbiamo un socio, una persona fisica o giuridica. Se un socio è una persona fisica, quando, una volta, quando è pagata l'imposto solutile di 10%, non c'è la tassazione dei dividendi. Quei dividendi possono essere distribuite e senza nessun vincolo possono essere trasferite in Italia o da qualsiasi altra parte. Nel caso, se si tratta dei soggetti giuridici, per esempio le società italiane, prima bisogna pagare 10% della ritenuta sulla fonte e dopo viene distribuito il dividendo. Dato che Bosnia e Italia hanno, diciamo, degli accordi che sono eredati anche dall'ex Jugoslavia, dalla nostra agenzia entrate, può rilasciare un documento da dove si vede che qui è pagata la ritenuta dal fonte sul 10% e questo, l'agenzia dell'entrata in Italia, riconosce e può, diciamo, prendere in considerazione durante la tassazione in Italia, per esempio. Però ecco, 10% sicuramente è ritenuto sulla fonte, sulla distribuzione. Grazie. Ti metti Gianluca, com'è il sistema bancario in Bosnia? Per quanto riguarda... La presenza di banche italiane, quindi magari se fai un panorama di chi, quali sono gli istituti bancari con cui normalmente anche le aziende italiane lavorano, quelle che sono presenti, qual è un po' il panorama? Grazie. In Bosnia sono presenti moltissimi gruppi bancari europei, mondiali, direi. Non abbiamo delle banche locali. Diciamo che banca numero uno in Bosnia sicuramente è Unicredit Banca, banca italiana molto forte qui in Bosnia, banca intesa non tanto come Unicredit Banca. Ecco, queste sono due banche italiane presenti sicuramente al territorio. Altre banche molto importanti sono Sberbank, Sberbank che è una banca russa. Abbiamo Erstebank, abbiamo delle Reifenbank, cioè banche europee. Abbiamo anche una banca turca. Per quanto riguarda il sistema bancario funziona come in Italia, come nel tutto il mondo, cioè non ci sono particolarità. Sì, è un sistema efficiente. Tra l'altro Sberbank aveva rilevato tutte le popolari austriache, diciamo, che erano presenti appunto in tutta l'area e alcuni anni fa aveva rilevato appunto tutto il pacchetto. Quindi sicuramente dal punto di vista bancario chi vuole operare trova tranquillamente affidabilità, come diceva la Daliborca. Banche italiane sono banche intese unicredit e quindi può sicuramente, diciamo, avere porto senso. Ultima domanda che ce la faccia sempre Lucio sulla normativa sulle joint venture, su cui mi sento comunque io di dire qualcosa, ma che è legato a riconoscimento, diciamo, dello status di investitore, di protezione degli investitori. Normativa sulle joint venture è sempre, come dire, un qualcosa che deriva in questo caso anche dal passato, da una modalità di investimento. Ci sono settori strategici che sono operati e che quindi fondamentalmente richiedono percorsi particolari, diciamo, autorizzazioni da parte dello Stato e su cui normalmente appunto si lavora sulla normativa joint venture, ma di fatto la normalità dell'attività viene gestita con società di capitali o di O, diciamo, società di responsabilità limitata, che sono quelle più, diciamo, usate, diciamo, da tutti. Poi ci sono anche le SPA, però la normativa la joint venture, diciamo, è una normativa, il diritto applicato in Bosnia, un po' il diritto tedesco, che poi è quello che noi in Italia abbiamo introdotto nel 2005 nella riforma del codice civile societario, quindi non ci sono particolarità, chiaramente bisogna valutare caso per caso in base alla situazione. Però magari lascio anche alla Daliborca se c'è qualche ulteriore passaggio su questo tema delle joint venture. Sì, sì, proprio hai detto tutto quello che direi anche io, senz'altro è una DO, è una società dove, ecco, delle joint venture potrebbero realizzare, mentre SPA sono, diciamo, non sono costruite così spesso in Bosnia e non esistono tranne quelle che sono, che erano società statali e dopo sono convertite in una SPA. Ovviamente dipende di quale joint venture si tratta, ecco, bisogna un po' analizzare di che cosa di preciso vorrebbe chiedere al Signore. Beh, comunque, diciamo, adesso ci sono passati minuti per cui siamo, direi, di andare in chiusura, visto che non ci sono altre domande. Chiaramente chi avesse necessità o voglia di fare delle domande dirette alla Daliborca ci scrive, vi mettiamo in contatto direttamente con la Daliborca in Bosnia, così potete anche contattarla e parlarci direttamente se qualcuno vuole fare degli approfondimenti. Noi oggi chiudiamo, ricordo che, diciamo, avremo un prossimo appuntamento il giovedì 24, diciamo, sempre nell'area dei Balcani, dove abbiamo istituito un desk a favore soprattutto del mondo delle infrastrutture e dove avremo dei ospiti importanti che ci parleranno sia all'Alto Bay, sia all'Alto Banca italiana, sia istituzioni, dove andremo a parlare appunto di questo aspetto e soprattutto di quelli che sono i progetti, diciamo, sulle infrastrutture sull'area dei Balcani. Ricordo che tutti i nostri export talks vengono pubblicati regolarmente sui nostri social, quindi anche oggi potete rivederla nei prossimi giorni sui nostri social. Vedete alle mie spalle l'indicazione del sito dove potete trovare appunto tutte le informazioni e chi vuole contattare, ripeto, da Daliborca lo può fare contattandoci, noi poi lo metteremo in contatto. Quindi ringrazio, grazie Daliborca del tuo tempo, grazie a tutti per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Grazie.